Siamo oggi 17 aprile, tappa veneziana della Run for Hope. Raccolta a fondi, una staffetta benefica, staffetta nazionale, qui siamo a Venezia, quindi la staffetta della regione Veneto. Raccolta a fondi quest'anno in favore di AIL. Una tappa oggi bagnata ma fortunata, visto la tempesta, il vento, l'acqua, ma noi non ci siamo fermati e siamo arrivati qui fino a San Marco per il nostro passaggio al testimone. È una raccolta a fondi quindi vi invito a donare, donare, donare perché i soldi che donerete andranno spesi bene per una giusta causa per l'AIL e quindi ora lascio la parola all'AIL. Ringraziamo e applaudiamo a questa iniziativa, a questa staffetta multiregionale che aggrega tante associazioni, riuscendo a superare specificità e quant'altro. Tutti insieme ce la faremo, tutti insieme per la ricerca, donate, donate, donate. Grazie a tutti.